Da oggi, 14 dicembre del 2022, possiamo trovare su internet il primo poster di Scream 6, ma anche il teaser trailer. Questa pellicola, sempre diretta dai Radio Silence, noi fan la stiamo aspettando tantissimo e approderà nelle sale italiane dal 9 marzo del 2023. Ma prima di commentare questa breve anticipazione che abbiamo visto nel teaser, fatemi dire quanto ai tempi io rimasi perplesso dopo aver amato Scream 5 quando i Radio Silence annunciarono la lavorazione di questo sesto film della saga iconica, ricordandomi che solitamente dopo il terzo capitolo tra un film ed un altro passavano almeno dieci anni, perché fateci caso, Scream 3 uscì nel 2000 e il quarto nel 2011 in Italia, il quinto addirittura nel 2022. Se hanno accelerato i tempi vuol dire che alla base ci sia qualcosa di solido. La mia curiosità è tantissima per di più dopo aver letto le dichiarazioni degli sceneggiatori che han detto con Scream 6 sovvertiremo le aspettative. Ora, io non so dove si possa andare a parare, mi auguro che abbiano un'idea veramente forte e vincente, ma dopo tutto già la locandina ci lascia ben sperare. Dove viene mostrato Ghostface al di là di un vetro su un vagone della metropolitana con scritto New York New Rules. Già il fatto che il film, come sapevamo, si svolga a New York e che ci siano delle nuove regole ci fa venire l'acquolina in bocca. Per di più, questo trailer, che non rivela più di tanto ma che comunque è parecchio succoso, ci può far già speculare sul futuro di questa saga. Perché? Innanzitutto, in questo breve trailer che è stato rilasciato per meglio dire teaser, ritroviamo i nostri protagonisti, quindi Sam, Tara, Mindy, Chad, sulla metropolitana. Ci troviamo a New York, presumibilmente nel periodo di Halloween, perché tutte le persone sono truccate. Addirittura alcuni hanno il costume di Ghostface. Già questo dovrebbe un attimo farci pensare e riflettere, perché fa strano che comunque la figura di Ghostface sia ancora così iconica. A New York, lontani da Woodsboro, è vero che i suoi delitti di Ghostface sono famosi in tutto il mondo, ma se ricordate come finiva il quinto capitolo con Gale Weathers, che non sceglieva di raccontare quella storia e di voltare pagina per parlare magari di Linus, fa anche un po' strano pensare che comunque la leggenda di Ghostface continui a prendere piede. È legittimo, perché comunque ci sono stati dei nuovi omicidi. Poi vediamo se metacinematograficamente parlando all'orizzonte si siano presentati dei nuovi stab, o chi lo sa, penso di no perché sarebbe di cattivo gusto, visto ciò che accade nel quinto capitolo. Ma lo sapete quanto è spietato e cinico il sistema hollywoodiano cinematografico. Quindi già il fatto che ci siano più persone travestite da Ghostface rimanda anche al bellissimo inizio di Scream 2 al cinema durante la proiezione del primo stab. Siamo sulla metropolitana e fra tutti quei Ghostface ovviamente c'è anche un vero assassino. Un assassino che si avvicinerà sempre più al nostro gruppo di protagonisti e tenterà di far del male a Mindy con un taglio di capelli diverso. Per di più ci sono questi sottotitoli che recitano Nella città che non dorme mai, New York, nessuno ti sentirà urlare. Ed infatti nell'indifferenza più totale questo Ghostface mette una mano alla bocca di Mindy e tenta di aggredirla. Ed intanto il trailer, il teaser finisce. Abbiamo la conferma già dalla locandina che il logo Scream comprenda la V che forma la M più marcata e con del sangue che cola sopra. Andando a ricreare il V1 un po' come in Scream 5 c'era sempre la M che andava a allungarsi un po' in basso formando la V il numero 5 in numeri romani. Quindi a livello di logo il tutto è molto intelligente come al solito ben studiato. La curiosità mi porta anche a pensare che questa maschera di Ghostface a New York possa essere indossata da più persone. Chi lo sa sarà che vederli in metropolitana mi ha fatto pensare un attimo e se questa maschera venisse utilizzata come se fosse un'eredità del male. Quindi più persone fissate che vogliono celebrare la figura di Ghostface che se la passano. Se ricordate bene una delle prime sceneggiature iniziali di Scream 5 doveva proprio raccontare, quando ancora Wes Craven era in vita, addirittura una Jill sopravvissuta, non si scopriva che lei fosse l'assassina, che si trovava, se non ricordo male, proprio non a Usboro ma non ricordo dove, al college e che lì ci fosse un altro assassino che ben sapeva che Jill fosse stata il killer nel film, in Scream 4 e quindi più Ghostface. Non so perché ma ho l'idea, in questa scuola, in questo college avrebbe dovuto insegnare anche Sidney Prescott. Non so per quale motivo ma ho la sensazione che in Scream 6 ci siano più Ghostface ma senza che l'uno sappia dell'altro. Voglio dire, non sono in combutta, magari sì ci saranno i soliti due killer, però secondo me questa maschera verrà indossata da più persone senza che gli uni sappiano degli altri e si verrebbe, si andrebbe per meglio dire incontro ad un qualcosa di veramente rivoluzionario, la potenza di Ghostface a New York. Se in Scream 2 ci si allontanava da Woodsboro per andare in Ohio al Windsor College, se in Scream 3 eravamo ad Hollywood proprio nei meandri del cinema, in Scream 4 si tornava a Woodsboro, in Scream 5 si torna a Woodsboro e un po' a Modesto in California, questa volta siamo veramente a New York dove può accadere di tutto. Io vedo questi protagonisti già in forte difficoltà in questo teaser trailer, non so cosa aspettarmi per quanto riguarda anche le figure ritornanti. Sam è riuscita a combattere le visioni di suo padre, Bill Loomis, veramente Stumacher, potrebbe tornare? Girai anche un video a riguardo per il quinto capitolo che è ancora valido per il sesto, sicuramente nell'era dei morti che parlano e dei personaggi che non se la sentono proprio di lasciare andare i franchise che li han resi noti, la figura di Stumacher potrebbe essere sicuramente carismatica in questo sesto capitolo. A livello oggettivo realistico andrebbe proprio contro ad ogni tipo di realismo, però se ci pensate, già Billy Loomis sotto forma di fantasma, dipende quello che metacinematograficamente voglia raccontare Scream 6. La curiosità è alle stelle anche perché si è parlato di un film violentissimo. I radio silence spingevano perché ci fossero ancora di più schizzi di sangue in ogni scena e quindi si aumenta la violenza, si aumenta il tono slasher e vediamo. Vediamo con la paura, sempre allo stesso tempo, che rilasciare Scream 6 a distanza di così pochi anni, cioè alla fine Scream 5 è uscito nel 2022, Scream 6 nel 2023. La paura che abbiano fatto tutto di fretta c'è, ma se veramente han parlato di sovvertire le aspettative voglio essere fiducioso e sono curioso di sapere la vostra perché a New York potrebbe succedere di tutto. Io vi ricordo che pochi giorni fa ho caricato anche un video dove mi sono divertito a cercare di capire chi potesse nascondersi dietro la maschera di Ghostface nel quinto capitolo. Tra pochi giorni uscirà un nuovo video a tema Scream, quindi non perdetevelo ma non vi rivelo di più. Però nella sezione commenti vi attendo così potreste farmi sapere la vostra e vi ricordo che l'assassino potrebbe essere chiunque.